inizia tutto solo per capire la sensazione del contatto non avendo la percezione di dov'è arrivare ok in base all'ultimo punto io vi dirò via apri gli occhi in quadri bersagli e poi ti fai dire di l'anima si e di l'anima sulle mani ok ma poi lui diventa questo via 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 Grazie